Annuale scambio degli auguri nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano alla presenza del Vescovo Armando Trasarti, del Vice Sindaco Stefano Marchegiani ed il Presidente della Fondazione, Fabio Tombari, che non ha fatto a meno di toccare argomenti scottanti ed attuali come il caso Banca Marche e le sue ripercussioni su tutto il tessuto sociale, oltre che sul patrimonio della Fondazione. Siamo tutti un po' più poveri rispetto al 2010, ormai dobbiamo farcene una ragione, ma occorre guardare avanti ed è per questo che vengono confermati tutti gli impegni presi per il 2016, il primo dei quali il restauro di Palazzo Pagani Bracci che sarà adibito ad area museale e che vedrà come primo allestimento una mostra dello scultore toscano Giuliano Evangi. Devo dire che la perdita che abbiamo dovuto registrare, che registreremo sul titolo Banca Marche è vero, ha ridotto il nostro patrimonio, ma era un patrimonio indisponibile quindi questo patrimonio non sarebbe mai potuto essere impiegato in qualche cosa, in qualche iniziativa è solo il rendimento che la Fondazione può utilizzare del nostro patrimonio questo è chiaro, penso che dovrebbe essere chiaro per tutti, ma non tutti hanno capito questo principio. Rimarcato in questo frangente dal Vice Sindaco lo stretto legame che esiste tra la compagine pubblica e quella privata per la concertazione di strategie ed interventi con un unico obiettivo comune, il bene della città. Mirare un obiettivo insieme è la strada giusta, questo ci siamo ripromessi, di voler bene alla città ovviamente questo è il nostro compito, di stare uniti in un momento di crisi che se ci dà difficoltà ci dà anche il tempo per mettere a punto strategie nuove che ci daranno soddisfazioni.